Buongiorno a tutti, grazie al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, grazie alla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro per aver organizzato ancora una volta questa manifestazione ormai tradizionale, il Festival del Lavoro. Devo dire che mi sento un po' a casa, io ho partecipato in passato a molte edizioni del Festival e mi fa doppiamente piacere intervenire oggi in un'altra veste, quella di Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Festival è una manifestazione che è cresciuta molto nel tempo e che non parla più soltanto a una categoria di professionisti, ma parla a tutti coloro che hanno a cuore il lavoro, la competitività del nostro tessuto produttivo, il futuro dell'Italia. Il lavoro è il cuore di questa manifestazione ed è anche al centro del nostro impegno alla guida della nazione. In questo anno e mezzo di governo abbiamo fatto le nostre scelte, abbiamo adottato i nostri provvedimenti avrendo sempre ben in mente il ruolo che spetta esercitare allo Stato, cioè mettere le aziende e i lavoratori nella condizione di creare occupazione e ricchezza e redistribuire nel modo più giusto possibile quella quota di ricchezza che con le tasse torna nelle mani dello Stato e che deve essere utilizzata per aiutare le persone più fragili e più esposte. Allora fin dal nostro insediamento abbiamo lavorato esattamente in questa direzione e i primi risultati ci dicono che siamo sulla strada giusta. Da quando siamo al governo abbiamo 600 mila occupati in più, il tasso occupazionale ha toccato il record dei 62,1%, abbiamo superato per la prima volta il tetto dei 10 milioni di lavoratrici, i contratti stabili aumentano, la precarietà diminuisce e si riducono anche gli inattivi, cioè coloro che non solo non lavorano ma che hanno anche smesso di cercarlo un lavoro. È un segnale molto positivo, di grande fiducia nell'economia e nel futuro, dati che ci rendono orgogliosi e che anche il Presidente della Repubblica Mattarella, che voglio ringraziare ancora una volta, ha salutato con soddisfazione. Non intendiamo ovviamente cullarci sugli allori, cioè non significa che vada tutto bene. Noi continuiamo a lavorare per consolidare questi dati e migliorarli ancora. Proprio per questo in occasione del primo maggio abbiamo approvato un ulteriore pacchetto di norme che libera circa 3 miliardi di euro per incentivare l'assunzione di donne, giovani, lavoratori più fragili, soprattutto al Sud. Ma non ci stiamo occupando solo di rilanciare il nostro mercato del lavoro, di renderlo più dinamico. Stiamo concentrando la nostra attenzione anche sulle nuove sfide che i nostri lavoratori e le nostre imprese sono chiamati ad affrontare. Voi avete scelto di dedicare il Festival esattamente a una di queste, che è l'intelligenza artificiale generativa e l'impatto che questa nuova tecnologia può avere sui sistemi economici e produttivi. Stiamo vivendo un cambiamento epocale che avrà un impatto determinante su ogni settore lavorativo, non solo in quelli più tradizionali ma anche in quelli più innovativi che interessano il lavoro intellettuale come il vostro. E allora non possiamo da una parte fermare questa rivoluzione ma dobbiamo lavorare per fare in modo che questo processo sia sempre a misura d'uomo, che sia cioè incentrato sull'uomo, controllato dall'uomo e che abbia l'uomo come suo ultimo fine. L'intelligenza artificiale sarà una risorsa se il suo sviluppo migliorerà la qualità del lavoro, se lo renderà più efficiente e sempre più a misura di persona. Non sarà una risorsa, al contrario, se condurrà semplicemente alla sostituzione dei lavoratori o all'espulsione di milioni di lavoratori dal mercato del lavoro. L'intelligenza artificiale investirà prima o poi e con accenti diversi tutto il mondo del lavoro e non sarà limitato a profili di eccellenza tecnologica. In futuro continueremo ad avere bisogno di operai, di insegnanti, di artigiani, di medici. Ciò che cambierà sarà il modo di svolgere quei lavori e sarà necessario acquisire le competenze necessarie per farlo. Per questo io sono convinta che sia fondamentale lavorare tutti insieme per promuovere un vasto programma di reskilling e upskilling per tutti, giovani e adulti, lungo tutto l'arco della vita e nei luoghi di lavoro e nelle società. Perché come ci dice la Banca Mondiale l'80% della ricchezza delle nazioni più avanzate è rappresentata dal sapere e il sapere è la competenza che fanno la differenza in questo tempo. È una priorità sulla quale dobbiamo avere il coraggio e la forza di investire. Allora sono temi che stanno a cuore a questo Governo e che questo Governo porterà anche in ambito G7 in quest'anno di Presidenza italiana. Stiamo lavorando per lanciare nell'ambito della nostra Presidenza un piano d'azione sull'uso dell'intelligenza artificiale particolarmente nel mondo del lavoro. È una sfida che io considero particolarmente impegnativa, ne siamo ovviamente consapevoli, però sono anche convinta che il Sistema Italia in tutte le sue articolazioni abbia il coraggio, la visione, la capacità che servono per occuparsi anche dei temi più difficili e individuare le soluzioni più innovative. E quindi grazie, grazie ai Consulenti del Lavoro, grazie a tutti voi per il contributo che darete in questi giorni. Faremo tesoro dal canto nostro, come abbiamo fatto in molte altre occasioni, dei vostri suggerimenti e delle vostre proposte. Buon Festival a tutti.